Gli esperti lo avevano già sospettato, ora c'è una conferma. I primi risultati dell'esame delle scatole inere del Boeing 737 caduto in Etiopia dicono che l'incidente presenta delle similitudini con lo schianto del Boeing della Lion Air avvenuto a ottobre in Indonesia. Lo ha confermato il Ministero di Trasporti Etiope mentre il Paese piange le vittime del disastro. Questo è un incidente scioccante e molto triste. La maggior parte delle persone che sono morte erano ben qualificati professionisti etiopi e cittadini del mondo. È tragico e vorrei che nessuno dovesse passare attraverso questo tipo di dolore. Mentre le scatole inere vengono analizzate a Parigi, negli Stati Uniti il Dipartimento dei Trasporti ha aperto un'inchiesta sull'applicazione delle procedure di sicurezza federali per i nuovi aerei. L'obiettivo è verificare che tutti i protocolli siano stati rispettati. Anche da Boeing.